Ciao a tutti, sono Caterina Lazzarini e sono una life coach e lavoro con persone con più di 60 anni per aiutarla a trovare un nuovo modo di vivere in una maniera irriverente e divertente la loro vita da 60 plus, come si può dire. Conosco Elisa da alcuni anni e ho sempre apprezzato di lei la sua schiettezza, la sua preparazione e il suo modo di veicolare informazioni in un modo molto fruibile e molto concreto. La capacità di usare immagini efficaci che ti consentono di non dimenticare più quel concetto. Quindi quando ho sentito che preparava questo corso e avrebbe fatto questo corso sulle 5 leve e 5 fulchre mi sono iscritta subito. Ho trovato un corso assolutamente ben fatto, ben strutturato, con i passaggi giusti in sequenza e assolutamente indispensabile per chi vuole iniziare il suo business o per chi come me ha bisogno ogni tanto di avere dei momenti di riflessione su quello che vuole fare, raccogliere un po' le idee, raccogliere un po' di dati. Quello che a me è piaciuto molto è stata la sua presentazione del modello di business, ne avevo già sentito parlare in tantissimi corsi e però non mi era mai stato così chiaro quanto il business, soprattutto essendo una persona che lavora da sola, io sono il mio patrimonio aziendale, deve rispondere la mia personalità, alle mie esigenze, ai miei valori e questo è una cosa che non tutti ti insegnano a fare nelle scuole di business. Per cui trovo che sia utile appunto a chi deve iniziare e deve riorganizzarsi, a chi ha già qualche anno di lavoro alle spalle ma ha bisogno di rivedere tutto quello su cui ha lavorato e su cui ha basato la sua attività e poi c'è Elisa che comunque è una persona estremamente generosa, preparata, competente e che ti dà sicuramente tutto quello che ha e soprattutto tutto quello che ti è utile per partire o ripartire quando ti senti un po' disallegnato dal tuo lavoro.